Ciao amici, oggi vediamo uno dei rimedi naturali più efficaci per liberare le vie respiratorie dai sintomi dell'influenza. Sono i suffumigi. Lo so, non tutti amano questo rimedio della nonna, ma in inverno è un tocca sana. Ma come farli nel modo giusto e quali sono i principali benefici? Beh, ci sono dei trucchetti, ve li spiego in questo video. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. La parola suffumigi deriva dal latino e risale ai tempi dei romani. I suffumigi sono l'inalazione di vapori caldi fatti con acqua, oli o erbe. Hanno molti benefici. Il vapore incorpora le proprietà di queste sostanze e libera le vie respiratorie. Preparare i suffumigi è semplice, basta far bollire dell'acqua e toglierla dal fuoco. Mettere il pentolino sul tavolo e aggiungere del bicarbonato o degli oli essenziali specifici. Bisogna respirare i vapori per almeno 3 minuti coprendo la testa e il pentolino con un asciugamano, così l'acqua resterà calda a lungo e il vapore non si disperde. Sono rimedi naturali senza effetti collaterali, ma bisogna farli con cura. Come ingrediente base si può usare un cucchiaio di bicarbonato o di sale grosso. Tutti abbiamo in cucina almeno uno di questi due ingredienti. Oppure possiamo aggiungere oli essenziali. Ecco quali. Tea tree oil è indicato per raffreddore, tosse e raucedine. Eucalipto e menta vanno bene per il naso chiuso. Camomilla per catarro persistente e infiammazione. Alloro e rosmarino per sinusite e mal di testa. Timo e origano per il mal di gola, ma attenzione perché sono molto molto forti. Bastano due gocce per ogni tipo di olio essenziale per alleviare l'infiammazione. I suffumigi si possono fare più volte durante il giorno e prima di andare a dormire. Avete visto amici come è semplice fare prevenzione per le vie respiratorie? Con tutto l'inquinamento che c'è bisogna avere cura della respirazione in modo naturale. Per vedere tanti altri video sui migliori rimedi per la salute e la bellezza è facile. Iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Se volete sostenermi in questo progetto di divulgazione abbonatevi al canale. Seguire dei rituali sani è importante anche per i vostri amici. Allora condividete questo video può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio!